Ciao ragazzi e bentornati o benvenuti qua sul canale di Burki, siete nuovi amici di YouTube! Oggi siamo qui a portare un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il nostro Benevento. Ci sono delle novità, ci sono delle news che riguardano i nostri colori giallorossi e ne voglio parlare insieme a voi e voglio portarvi delle mie considerazioni per questo finale di stagione. Con il sorriso sulle labbra e con un pizzico di tranquillità in più rispetto ai giorni scorsi con la consapevolezza che siamo padroni del nostro destino in questo finale di stagione. Se vi fa piacere chiaramente che siete nuovi iscrivetevi al canale perché è gratis. Se non vi fa male nessuna delle due vostre spalle lasciate un bel like qua sotto di supporto a questo video e condividetelo con tutti i tifosi del Benevento perché veramente ci tengo tanto a confrontarmi a parlare di Benevento insieme a tutti voi e anche con gli appassionati di calcio, di Napoli, delle altre squadre perché veramente mi interessa la vostra opinione. Allora ragazzi c'è una novità che riguarda il nostro Benevento. Ieri alcuni tifosi, alcuni membri della curva sud del Benevento sono andati a parlare con la squadra. Allora chiaramente c'è preoccupazione, c'è ansia da parte dei tifosi, da parte dell'allenatore, da parte dei giocatori. Questo è innegabile, è innegabile vista la situazione, visto il momento. Però chiaramente è venuto fuori che i giocatori ci tengono, chiaramente è giusto che sia così. Sono professionisti, sono pagati, ci devono tenere. E chiaramente poi c'è quelli che hanno più senso di appartenenza per questi colori, per questa città, ovvero i senatori di questa squadra qua e poi ci sono tutti gli altri giocatori. Comunque cosa è venuto fuori da questo discorso qui? che tra la curva e la squadra, che comunque i giocatori ci tengono, i giocatori ci tengono tanto a questa salvezza perché poi probabilmente tanti di loro il prossimo anno, se il Benevento torna in Serie B, giocheranno in Serie B. Quindi ci tengono a giocare in Serie A. Mettiamoci anche un attimino nei panni dei giocatori, ragazzi. Proviamo a metterci nei panni dei giocatori. I giocatori hanno fatto, l'anno scorso con Inzaghi, un ottimo percorso, un ottimo campionato in Serie B, no? Quest'anno hanno fatto un ottimo girone di andata, poi chiaramente qualcosa c'è stato, qualcosa si è incrinato, diciamo, no? Magari tra il presidente e l'allenatore, non lo so quello che di preciso c'è stato. Se chiaramente le voci ci sono, quando ci sono delle voci, qualcosa di verità, un pizzico di verità dietro a tutto questo c'è. Quindi qualcosa c'è stato, chiaramente ne hanno risentito anche i giocatori, ne ha risentito l'ambiente, però, 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 i giocatori, chiaramente, se noi ci mettiamo nei panni dei giocatori, vogliono giocare in Serie A. Chi è che non vorrebbe giocare in Serie A? Quindi, ragazzi, non è che il Benevento ora vuole, chiaramente, lì, perché tanti dicono, ho visto la squadra con un atteggiamento rinuncetario, ho visto la squadra che gioca tanto per. Secondo me non è così. Secondo me la squadra ci proverà fino alla fine, chiaramente i giocatori, il mister e il presidente vogliono restare in Serie A per una questione comunque di immagine, per una questione di introiti, per una questione di carriera, per una questione di blasone, ragazzi, perché la Serie A è la Serie A, parliamoci chiaro. Però quello che voglio dire oggi è che, secondo me, i giocatori si impegneranno e daranno tutto fino alla fine. Se comunque i tifosi sono andati a parlare con la squadra e hanno dimostrato vicinanza a questi colori, è importante, è importante comunque far trasmettere l'entusiasmo dei tifosi, è molto molto importante, questo potrebbe contagiare positivamente l'ambiente. Quello che dico io è che ci sono cinque partite, cinque partite. Quello che veramente manca, secondo me, in questo momento qua è una scintilla, è una scintilla, un episodio, un po' come era stato il gol di Brignoli nel 2-2 tra Benevento e Milan, ragazzi, nella prima esperienza dei giallorossi in Serie A. Un episodio che ti dà comunque veramente quella spinta, quel fomento che c'era poi nella prima parte di Stagione e nella prima parte di questo campionato di Serie A a Benevento. Quel gol che veramente ti può dare quella spinta, ti può far fare quel passo in avanti, ti può dare veramente quella spinta a livello di ambiente, a livello proprio di emozioni, a livello proprio di un atteggiamento, di un atteggiamento che potrebbe contagiar veramente tutti, ecco, riesce gasati, riesce fomentati, riesce emozionati, come eravamo in questa prima parte di Stagione, perché questo è importante. Se, secondo me, il Benevento contro il Milan non farà una grande partita, però riuscirà magari a portacasa anche un punto, con un episodio, con veramente magari un pallone buttato là nel mezzo, su un gol, un episodio, un episodio, se magari il Benevento riuscirà a trovare magari un punto, o anche i tre punti, perché no, perché no, tutto è possibile, il Milan non è in un grande momento, con veramente un episodio a favore, ragazzi, potrebbe essere la scintilla che potrebbe scoccare e potrebbe ridare quell'entusiasmo, quella gasataggine, se così si può dire, all'ambiente, far un po', far scattare nella testa di tutti quella scintilla che potrebbe sbloccare veramente la situazione. Secondo me manca questo, manca un episodio, manca una cosa a favore, manca veramente a questi ragazzi quel qualcosa, però poco, però poco per poter tornare ad essere quelli del girone di andata, però io ragazzi ci tengo a dire che ci sono cinque partite alla fine, Milan, Cagliari, Atalanta, Crotone e Torino, cinque partite, 15 punti, tutto è possibile. Se il Benevento nel girone di andata era un Benevento top, nel girone di ritorno è stato un Benevento sotto le aspettative, però questi ragazzi non sono diventati dei brocchi tutto insieme, ok? Questo ci tengo a dire. Manca quell'episodio, quella scintilla che potrebbe veramente far scoccare un nuovo entusiasmo, un nuovo cammino, un nuovo inizio per questo finale di stagione, però quello che ci tengo a dire è che tutto, tutto, tutto è nelle mani del Benevento, quindi vicinanza alla squadra, io oggi so più carico, so più carico che mai, so carico, so carico perché ci credo, io ci credo e ci voglio credere ragazzi, ve lo dico veramente, io ci credo nella salvezza e ci voglio credere. Fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo minuto, io ci credo. I tifosi sono andati a parlare con la squadra, la squadra ha dimostrato comunque attaccamento ai colori, attaccamento alla maglia. Manca quel qualcosa per poter tornare ad essere quelli del girone di andata, però manca secondo me poco, manca secondo me poco. Ci manca quell'episodio come quel gol di Brignoli che aveva dato veramente quel grande entusiasmo, quel grande fomento, tutte quelle grandi emozioni che poi chiaramente ti entrano nella testa e poi le riporti anche in campo, perché se ti giochi con un'altra testa, giochi comunque con una testa libra, con una testa positiva e poi chiaramente in campo le prestazioni sono diverse, no? Questo è innegabile. Quindi ragazzi, forza Benevento, forza Benevento, niente è perduto. Chiaramente sarà difficile in questo finale di stagione, però come è difficile per noi, sarà difficile anche per quelle altre squadre. Ecco, questo ci tengo a dirvelo ragazzi, perché non è che è difficile solo per noi, è difficile anche per quell'altra, è difficile. E quindi ragazzi, io ci credo, io ci credo, sono sincero. Ditemi la vostra cosa ne pensate su questo ragionamento, su questi concetti che oggi vi ho detto qui sul Benevento, iscrivetevi al canale perché è molto molto importante, condividete il video con tutti i tifosi del Benevento, con tutti gli appassionati di calcio che conoscete, come dico sempre, sciaparala a tutti. E stai attento, che se giochi contro il Benevento, la partita potrebbe essere un tormento, giallorossi, se la nostra passione, dicono per sempre lo stregone, forza Benevento, forza Benevento, forza Benevento, no, che sono gasato, sono gasato, e stai attento, che se giochi contro il Benevento, la partita potrebbe essere un tormento, giallorossi, se la nostra passione, ti vediamo per sempre lo stregone. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, tutti uniti, tutti uniti, verso, verso il nostro grande obiettivo, il nostro grande sogno, la salvezza. Niente è perduto, tutto è nelle nostre mani. Forza Benevento, forza strega, forza giallorossi. Dai, 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 io ci credo ragazzi, io ci credo, fatemi sapere la vostra, e come dico sempre, sciaparala a tutti. Ciao ragazzi, amici di YouTube, dai, 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 dai!